Ieri il consiglio di amministrazione dell'Inter ha approvato il bilancio per la stagione 2022-2023. Qual è il risultato? Meno 85 milioni di euro. Tutti i giornali danno alla società nerazzurra in netto miglioramento da un punto di vista finanziario, ma è davvero così? Come sta davvero l'Inter? Scopriamolo insieme, mettetevi comodi. Io sono Luca e questo è Fratelli in Finanza. Iniziamo la nostra analisi dicendo che gli ultimi tre bilanci dell'Inter sono stati disastrosi. Veniamo da un meno 245 milioni di euro, meno 140 e ora meno 85 milioni di euro. A prima vista sembra che la nostra situazione finanziaria sia in netto miglioramento. Stiamo andando a diminuire anno dopo anno le nostre perdite. È davvero così? Bisogna guardare con un po' più d'attenzione a questi numeri. Facciamoli insieme, ma prima iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto. Non mi stancherò mai di ripeterlo, non vi costa nulla, ma per me è fondamentale per continuare a crescere su YouTube. Partiamo da un valore molto importante, i ricavi della produzione. Quest'anno sono stati pari a 425 milioni di euro, il leggero calo rispetto all'anno precedente, ma tutti festeggiano questo numero. Perché? Perché l'anno precedente venivamo dalle cessioni di Akini e Lukaku. Abbiamo realizzato 101 milioni di euro di plusvalenze, quindi sono andati a sporcare il dato dei ricavi. Quest'anno non abbiamo realizzato queste plusvalenze, il mercato della scorsa stagione si è chiuso praticamente in varità e quindi da dove vengono tutti questi soldi dei ricavi? La società ha sicuramente lavorato bene, ma finanziariamente abbiamo disputato una stagione quasi perfetta. Siamo arrivati in finale di Champions e per poco non l'abbiamo vinta, quindi abbiamo incassato 100 milioni dall'UEFA. Ecco la differenza dei ricavi rispetto all'anno precedente da dove viene. Sarebbe però ingeneroso dare solamente merito alla fortuna. La società ha lavorato bene e si emerge questo dai costi della produzione. Questi sono passati da 523 milioni di euro a 465. Quindi abbiamo un 60 milioni di euro di miglioramento che interviene da un lustro dove ha ridotto del 12% il costo del suo monte salario. Quindi un dato importante. Abbiamo ceduto giocatori importanti, giocatori che ci hanno permesso di alleggerire il loro ammortamento all'interno del nostro bilancio. Quindi tutto ciò ha favorito il nostro bilancio. Ma perché allora continuiamo a vedere un numero così negativo? Meno 85 milioni di euro? Vi sembrano bruscolini? Assolutamente no. Perché vediamo questo numero così gigantesco? Non possiamo far di meglio. La scorsa stagione è stata perfetta. Che cosa dobbiamo fare ogni anno per portare questo bilancio in pareggio? E questa è la domanda che noi tifosi interisti dobbiamo porci. Cerchiamo di analizzare la situazione ancora più approfonditamente. Ok, i ricavi sono rimasti uguali, i costi stanno diminuendo e il nostro indebitamento sta diminuendo anche. Ma c'è una spada di Damocle che è conficcata dal nostro collo. E che cos'è? I debiti che la società ha. Ho già realizzato altri video riguardo alla situazione finanziaria dell'Inter che vi lascio qui sotto in descrizione qui sopra se volete dargli un occhio dove vi spiego da dove provengono questi debiti. Per farla breve il debito più importante ce l'abbiamo con il fondo Octree e questi debiti ci costano ogni anno quasi 50 milioni di euro. Questo che cosa significa? Sedersi al ristorante e pagare la metà del conto senza mangiare. Ogni anno noi acquistiamo un top player solamente prima di entrare in campo. paghiamo un top player prima di entrare in campo, prima di iniziare la stagione. Che cos'è? Gli interessi sul debito che abbiamo. Quindi la società si sta sforzando di rendere il nostro bilancio più efficiente. Ma fino a quando non andiamo a ridurre quel debito, fino a quando non andiamo a ridurre quegli interessi, è difficile rendere sostenibile la nostra situazione. Parliamoci chiaro, ragazzi, quante volte ci si arriva in finale dicembre? Tutti gli anni? No. Quante volte si vince lo scudetto? Non si può vincere tutti gli anni con frequenza. Sono cose che non si possono programmare. E se quest'anno la stagione è fallimentare, l'anno prossimo che cosa ci troviamo in bilancio? Meno 200 milioni di euro di nuovo. Capite come il nostro bilancio non sia anticiclico, ma sia fortemente legato a determinati fattori. Un numero però voglio elencare, un numero però voglio sottolineare, i ricavi dal botteghino. L'Inter ha incassato 80 milioni di euro l'anno scorso. Per darvi una cifra, la Lazio, su cui ho realizzato un video che è uscito qualche giorno fa, l'anno scorso ha incassato 17 milioni di euro. L'Inter 80, record della sua storia, è un numero altissimo, è un numero che ci deve permettere di programmare, di portare dei campioni a Milano. Milano se li merita, però con questa spada di damocolo che abbiamo sul nostro collo siamo limitati, limitatissimi. Vi dirò ancora di più. Il 20 maggio del 2024 il prezzo che abbiamo con il fondo OCTRI scade. Due sono le strade. Suning deve vendere l'Inter a qualcun altro che si sobbarca quel debito, oppure l'Inter deve rinegoziare con OCTRI quel debito. E quando si rinegozia cosa succede? Si rinegozia a tassi più alti. Quindi se quest'anno paghiamo 40-45 milioni di euro di debito, l'anno prossimo ne pagheremo 50-55-60. Quindi la situazione è più che migliorare, andrà a peggiorare. Che cosa può fare realmente Suning? Cercare nuovi soci che investono nell'Inter, farsi dare una mano o vendere in toto l'Inter. Che cosa ci auguriamo noi tifosi nero azzurri? Che la nostra squadra possa raggiungere risultati in campo sempre più importanti e possa portare i nostri colori, il nero e l'azzurro, in alto, sempre più in alto. Però al momento mi sento dire che la nostra situazione rimane delicata. Mi dice che l'Inter sta migliorando anno dopo anno per me sbaglia. Non è intellettualmente onesto. La nostra situazione rimane critica. Quello che è successo, le forti plusvalenze due anni fa, i grandi risultati l'anno scorso non sono qualcosa che si può prevedere. Sono capitati ma nessuno ci dice che succederanno anno dopo anno. Quindi la nostra situazione finanziaria rimane davvero delicata. E su questo è che la società che onestamente sta lavorando bene ma deve fare qualcosa in più. Questa è la sfida che l'Inter ha nel prossimo futuro. Godiamoci il nostro inizio di stagione davvero importante e speriamo che si possa continuare così. Che ne pensate voi ragazzi del bilancio dell'Inter? Lo avete letto? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e noi, forza Inder, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!